Io avevo cominciato questo lavoro con il processo di spending review, perché riorganizzare significa anche non sprecare risorse e riuscire a farle arrivare alle famiglie, considerando che alcuni di questi strumenti vanno solo per categoria di reddito, quasi come se il tema delle famiglie fosse un tema solo per persone con bassissimi redditi. Invece le storie delle famiglie ti raccontano anche che si sentono un po' esclusi da un sistema familiare che per esempio in Francia è strutturato anche per il ceto medio.